Questo è il team Motivator della squadra, ora ha motivato poco perché siamo fuori al Super Bowl, ma è tutto, vuoi parlare adesso con Rossi e Iacoli. Cosa volete voi due? Lui dice non ci credo che fai il team Motivator. Ma come ci sono campeone del mondo, hai vinto anche il mondiale super sport allo scorso? Ma la gente non c'è di questo tuo ruolo, quindi tu motivavi chi dei due? Tutte due, Charles Davis e Scassa. Charles ha vinto il mondiale, Scassa ha fatto un sacco di podi, l'ha perso per un filo, quindi mi sembra che sia stata un'esperienza positiva. Adesso siamo partiti con l'handicap perché si è spaccato il polso, Charles, qua a Imola debutta con il blac di titanio, 4 viti, 6 chiodi, per Monza dovremmo essere in ordine, per Monza. Ciao caro, un bacio a tutti. Dove staremo andando? Nel condominio? In internet? Dove si va? Superwind? Dove ci vedi? Condominio. Condominio, telecondominio. In questo condominio? Ce n'è di gnocca in questo condominio? Se non lo vengo più, eh? È possibile. Condominio. 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 Grazie a tutti